Lei diceva che siamo molto meno attenti quando facciamo le scelte, che crediamo di aver scelto, ma in effetti siamo assolutamente inconsapevoli del perché abbiamo scelto quella determinata cosa. Ce lo può spiegare meglio? Sì, c'è una quantità incredibile di dati sperimentali su questo. Ciò che accade è che noi decidiamo per ragioni che ci sono oscure e poi dopo se qualcuno ci chiede perché abbiamo fatto quella cosa oppure ce lo chiediamo a noi stessi, ci inventiamo, arzigogoliamo delle spiegazioni. Per esempio c'è questo esperimento molto famoso, si fanno vedere a delle persone delle coppie di carte con delle immagini di persone maschi della stessa età, però diversi. Si dice quale preferisci, tu scegli quella di destra, allora ti danno la carta di destra e tu spieghi perché l'hai preferita. Però ogni due o tre carte te la sostituiscono e ti danno quella che tu non hai scelto. Bene, nessuno si accorge di questo cambiamento. Però a parte questo, la cosa interessante è che si cominciano a dare spiegazioni del perché si è scelta la carta che in realtà non si è scelta. Tipo uno ha scelto una persona, gliene danno un'altra e lui dice sì l'ho scelta perché mi piacciono gli orecchini. Sarà però quella che hai scelto non ce l'aveva gli orecchini. Bene, questo è pervasivo. Se noi non prestiamo attenzione alle scelte che facciamo agiamo così, agiamo senza sapere perché prendiamo le scelte che prendiamo. Quindi il senso critico. Il senso critico, un'altra frase che mi ha colpito, il senso critico ci rende meno vittime dei pregiudizi. Il pregiudizio è una gatta da pelare abbastanza importante. Il pregiudizio può portare la società verso scenari apocalittici. Esattamente. Vale il pregiudizio. I bias possono essere semplicemente comportamenti scelte che noi teniamo perché, che ne so, prediligiamo, ci piace il modo in cui è posta una domanda, cose del genere. Però ci sono pregiudizi più gravi. Ci sono degli studi che dimostrano che noi istintivamente empatizziamo di più con persone del nostro gruppo etnico. Cioè possiamo essere antirazzisti come vogliamo, però la nostra tendenza è a simpatizzare di più con i nostri simili. Che vuol dire? Vuol dire che l'antirazzismo è un'acquisizione culturale. E quindi non viene spontanea, va sempre vigilata. Dobbiamo vigilare sui nostri atteggiamenti perché potrebbero emergere appunto dei pregiudizi che sono pericolosi. Ma lei è favorevole o contrario all'intelligenza artificiale? Sì, no, come ho detto prima su questa domanda, se uno è favorevole o contrario, bisogna dare una risposta chiara e netta. Dipende. Dipende dalle applicazioni, dipende dai modi in cui si controlla. Quello che è sicuro è che è inarrestabile il progresso dell'intelligenza artificiale. Quello che credo sia altrettanto sicuro è che dobbiamo vigilare per cercare di plasmarla in modo che gli effetti più negativi non accadano.